efficaci e quindi abbiamo cercato ancora di insistere con delle procedure terapeutiche nuove proprio per vedere se qualche cosa riuscivamo a portare a casa. E il fatto quindi di aver aumentato il numero dei pazienti che sono in grado di essere trattati con questa procedura ha portato anche a delle conclusioni che adesso vedremo. Ma qual è il razionale? Che cosa ci aspettiamo che facciano queste cellule staminali che come vi ho detto non sono cellule miracolose. Il trapianto di cellule staminali vuol dire che quella quota di cellule staminali che è contenuta nel midollo osseo noi diamo dei farmaci per cui queste cellule vengono buttate in circolo e in qualche maniera vanno a ricostituire, non a rigenerare ma a riprogrammare il sistema immunitario della persona che ha questa malattia autoimmune. Però di fatto noi non sappiamo quello che funziona per buttare in circolo tutte queste cellule staminali noi diamo delle dosi altissime di ciclofosfamide. Quindi quello che stamattina vi è stato detto, la ciclofosfamide è un farmaco che nasce come chemioterapico ma normalmente viene usato anche come immunosoppressore. In chi fa il trapianto gli vengono date dei dosaggi altissimi. Io non so se tra di voi ci sia qualcuno che ha utilizzato la ciclofosfamide ma magari se la fatta fa un dosaggio di un grammo al mese e nei pazienti che subiscono e vanno incontro al trapianto vengono date delle dosi di 14 grammi nel giro di due giorni. Quindi immaginate che botta che è per il sistema immunitario e per il midollo. Quindi tutto questo cosa fa? Spazza via tutto quello che è il corredo genetico immunitario del paziente e poi queste cellule staminali loro sono fantastiche perché loro sono incapaci una volta che vengono ridate di andare a localizzarsi lì dove c'è bisogno quindi a ripopolare il midollo e magari a rigenerare anche quei danni che ci sono a livello dell'acute, a livello del cuore e quindi a dare sostanzialmente delle nuove riserve per il paziente. Però di fatto noi tuttora non sappiamo se appunto noi dando tutta questa grossa quantità di ciclofosfamide in realtà facciamo una pulizia totale e poi ridiamo queste cellule staminali, quello che funziona di più cioè se è il fatto di far pulizia o il fatto di rigenerare qualche cosa. Praticamente come viene fatto il trapianto? Il trapianto come vi dicevo prima non è una passeggiata non è una passeggiata perché in realtà per fare una procedura di questo tipo bisogna essere fortemente informati e motivati e motivati e informati spesso sono due cose che devono coincidere. Noi che ci occupiamo di questo argomento ci facciamo spesso molto scrupolo prima di avviare un paziente a questa procedura perché è innanzitutto come vedremo una procedura che ha un rischio di mortalità quindi offrire un trattamento terapeutico a chi non ha prospettive di vita come un paziente che ha una leucemia è un conto offrirla ad un paziente in cui noi non sappiamo ma possiamo solo immaginarlo quale sarà il suo futuro di vita diventa veramente molto complicato e anche da un punto di vista etico molto difficile come scelta. Comunque praticamente il trapianto si avvale di due passi la prima fase è quella appunto della mobilizzazione le cellule staminali vengono dati farmaci che fanno sì che dal midollo vadano nel sangue e dal sangue c'è una macchina come quella della dialisi che le rimuove dopodiché vengono congelate il paziente viene fatto aspettare, viene accudito dopodiché inizia la seconda fase che è quella proprio più critica e anche da un punto di vista psicologico e fisico estremamente dura perché viene data ancora un'altra botta diciamo di chemioterapia viene fatta pulizia totale del midollo e a questo punto vengono ridate le cellule staminali questo è il momento vero e proprio del trapianto tutto questo non comporta prelievo di midollo osseo vengono sempre fatti prelievi del sangue però è chiaro che c'è una finestra che è quella in cui viene data la chemioterapia in cui il paziente è estremamente fragile e vulnerabile perché è esposto ad ogni tipo di infezione proprio perché si chiede al suo sistema immunitario in quel momento di non funzionare ma non funzionare nel bene e nel male cioè gli si chiede di non funzionare come malattia ma gli si chiede anche di non funzionare nei confronti delle infezioni quindi si perdono i capelli quindi si possono prendere delle polmoniti si possono prendere delle infezioni a livello della bocca quindi è un momento estremamente estremamente delicato quali sono i risultati che noi abbiamo avuto? allora qui vi faccio vedere dei primi risultati perché sono estremamente interessanti allora la prima cosa è che io non ho mai visto funzionare nulla sulla cute come il trapianto quindi il trapianto funziona benissimo sulla cute con delle riserve che poi vi illustrerò l'altro aspetto estremamente importante questo lo vedete nel grafico che c'è a destra quello è lo skin score che è l'unico strumento che noi abbiamo per valutare l'interessamento cutaneo vedete come da tutti questi pazienti che sono stati trattati praticamente avevano un ecco qua se questa era la fase iniziale poi dopo vedete lo skin score che è un punteggio che noi diamo alla cute del paziente che ha la sclerodermia come si riduce dopo il trapianto e la riduzione di questo indice numerico è fantastico vedere come non è immediata ma si ha nei mesi successivi proprio come se ci fosse un meccanismo rigenerativo che entra in atto l'altro aspetto estremamente importante è quello che la malattia si stabilizza cioè la malattia si ferma e queste appunto sono delle osservazioni fatte a 36 mesi ma attualmente sono usciti altri studi che quindi dicono che tutta questa procedura quello che otteniamo è il miglioramento cutaneo e la stabilizzazione appunto della malattia fantastico cosa chiedere di meglio a una cosa del genere ma ci sono dei problemi il problema è che uno deve essere ben selezionato il paziente perché quello che sappiamo attualmente è che quanto più precocemente noi trattiamo il paziente con una procedura con una terapia di questo genere tanto più portiamo a casa quindi trattare precocemente vuol dire non trovarsi di fronte a una malattia molto evoluta e non trovarsi di fronte a una malattia molto evoluta vuol dire che il medico deve intuire che il paziente andrà male non ho dei criteri né esami di laboratorio né autoanticorpi nulla che mi possa far prevedere che un paziente è uguale a un altro qui dentro ci sono pazienti sclerodermici e io posso capire quello che è una malattia più avanzata meno avanzata però anche la sclerodermia è una malattia che ha delle fasi di Poussey e quindi riuscire a trovare la fase di Poussey iniziale fase di attività iniziale è estremamente critico io attualmente mi arrivano tanti pazienti con la richiesta di fare il trapianto direi che 9 su 10 vengono rimandati indietro perché non sono candidabili al trapianto l'altro grosso problema è la mortalità correlata al trapianto mortalità che non è bassa perché è intorno al 3% quindi uno può decidere di tenersi la sua malattia magari durerà 20 anni non lo sappiamo in che condizioni magari meglio grazie appunto alla riabilitazione grazie a tante terapie di supporto che abbiamo attualmente oppure può decidere se appunto è adeguatamente informato che tutto sommato si vuole giocare tutto con questo tipo di terapia è chiaro che il medico deve aiutare in questa scelta ma non deve forzare la scelta però è giù è corretto informare il paziente che c'è un rischio di mortalità che è quel rischio di cui vi parlavo prima quindi la fase precoce noi abbiamo visto il rischio di mortalità si è ridotto tantissimo negli ultimi 10 anni proprio grazie al fatto che noi trapiantiamo pazienti in una fase molto precoce però non è che possiamo trapiantare i sani quindi ci devono essere delle indicazioni che possono venire sicuramente la malattia cutanea squisitamente cutanea è la principale indicazione mentre invece se c'è già un impegno respiratorio un impegno cardiaco allora il trapianto è proprio meglio non farlo per cui la mortalità si è abbassata tantissimo grazie al fatto che abbiamo selezionato i pazienti meglio cioè una volta arrivavano al trapianto i pazienti che non avevano altre chance che non avevano altre possibilità terapeutiche adesso arrivano al trapianto i pazienti che hanno una malattia molto attiva esordita da poco perché vengono arruolati i pazienti che hanno una malattia esordita da meno di 3 anni in cui il medico riesce a individuare delle fasi di attività della malattia a livello cutaneo queste che vi faccio vedere sono delle mani di un paziente che ha una malattia esordita da parecchio tempo questo non è un paziente che potrà aggiovarsi del trapianto questo invece è un interessamento vedete si vede l'ispessimento della pelle e non si vedono però ancora i segni proprio della fibrosi quindi per il medico che si occupa di questa malattia è estremamente importante un adeguato esame obiettivo che possa cercare di apprezzare di quantificare il danno cutaneo cioè lo spessore della pelle perché lo skin score che chi è abituato a sottoporsi alla visita è un esame estremamente importante proprio per capire non quanto è evoluta la fibrosi cioè la sclerosi l'indurimento ma quanto è attiva la malattia quindi quanto spazio c'è per fare non solo il trapianto ma qualsiasi altro tipo di terapia immunosoppressiva quindi per concludere il trapianto autologo è un trapianto che offre delle grandi potenzialità io non sono autorizzata a darvi ancora dei risultati di uno studio che è stato fatto europeo ma che si è già concluso in cui da una parte sono stati fatti trapianti di cellule staminali dall'altra sono stati trattati i pazienti solo con la ciclofosfamide non ci sono dei dati appunto che io possa darvi numerici ancora ma quello che emerge è che il trapianto è nettamente superiore rispetto al solo trattamento con ciclofosfamide sull'interessamento cutaneo e sull'attività di malattia che viene bloccata ma emerge anche da questo studio la netta tossicità la mortalità correlata al trapianto quindi esiste un rischio che si è ridotto dal 10% al 2-3% attualmente ma esiste un rischio che va assolutamente calcolato è chiaro che io vi ho parlato di trapianto autologo quindi se io penso che uno abbia una malattia anche geneticamente in qualche maniera coinvolta in cui il suo sistema immunitario è mal programmato e funziona male e io gli ridò le sue stesse cellule è chiaro che concettualmente sarebbe meglio ricevere le cellule staminali da un'altra persona quindi fare un allotrapianto non un autotrapianto questo è il nostro sogno però di fatto la mortalità correlata ad un allotrapianto è ancora più elevata rispetto ad un autotrapianto e questo è il motivo per cui non è proponibile attualmente una procedura di questo genere per una malattia come la scherodermia l'altro aspetto è che la malattia con il trapianto si blocca noi non abbiamo dei grossi periodi di osservazione può andare in remissione completamente così come può essere può recidivare quindi può riattivarsi cioè il polmone che si era bloccato dopo un po' di anni magari può riprendere perché noi abbiamo riprogrammato il sistema immunitario ma non l'abbiamo messo a tacere allora però quello che succede che si è osservato è che ritrattando il paziente che ha subito il trapianto con le terapie canoniche la ciclofosfamide il micofenolato il rituximab tutto quello che vi hanno illustrato stamattina in realtà si risponde molto meglio quindi si parte da una situazione molto migliore rispetto a quella che si aveva appunto prima del trapianto è chiaro che parlare di trapianto vuol dire però fare riferimento a dei centri altamente specializzati quindi occorre che il trapianto venga fatto in strutture che conoscano la malattia e che la selezione dei pazienti venga fatta da reumatologi che abbiano conoscenze di questo problema proprio per evitare quell'alto tasso di mortalità che è legato al fatto che arrivano a fare il trapianto quando non c'è più nessuna speranza allora magari in quel momento la malattia ha dato già un grosso coinvolgimento renale cardiaco polmonare allora in quel caso è chiaro che assolutamente quindi fare riferimento a chi si occupa di queste cose l'ultima cosa è che come vi ho detto all'inizio è che le cellule staminali la riserva di cellule staminali è nel midollo osseo ma attualmente sappiamo che ci sono altre cellule che sono contenute sempre staminali ma che sono contenute in altri tessuti e in particolare ci sono queste cellule mesenchimali che sono in parte contenute proprio nel midollo osseo e che hanno delle grossissime capacità proliferative e rigenerative loro messe in vitro però sono in grado di dare osso cartilagine cioè fare diversi diversi tessuti e loro hanno un altro aspetto che è fantastico cioè il fatto che non non c'è un'incompatibilità da soggetto a soggetto se le mie cellule mesenchimali le do a un'altra persona non vengono riconosciute come strane quindi è chiaro che questo propone delle ipotesi di trattamento proprio quello il trapianto da un soggetto sano a un soggetto malato che sono delle potenzialità molto molto così più affascinanti però di questo ancora noi sappiamo veramente poco sono stati fatti dei modelli animali sono stati trattati anche alcuni pazienti che avevano delle malattie ematologiche e di fatto molta letteratura in proposito finisce col dire che le cellule mesenchimali saranno molto utili ma noi oltretutto non abbiamo l'autorizzazione ad utilizzarla e quindi veramente questo ci limita parecchio ma giustamente perché il paziente comunque deve essere tutelato quindi le cellule staminali coltivate negli scantinati non è non è propriamente corretto ma proprio per il paziente che le deve ricevere ci sono delle strutture che si chiamano self-factory cioè delle fattorie delle cellule che sono delle strutture altamente qualificate e assolutamente sottoposta dei controlli ed è a quelle che bisogna fare riferimento questo tanto per rinfocolare la polemica di questi giorni io vi ringrazio per l'attenzione in realtà il relatore successivo vi continuerà a parlare ancora di cellule staminali ma con un aspetto assolutamente più pratico e applicabile di quello che vi ho fatto di cui vi ho parlato io grazie con il dottor Fabio Caviglioli parliamo infatti del trapianto adiposo come riparatore cutaneo della sclerodermia il dottor Caviglioli professore di chirurgia ricostruttiva ed estetica all'università degli studi di Milano buon pomeriggio a tutti grazie per l'attenzione grazie per l'invito al presidente allora la nostra esperienza è proprio come citava la collega Nicoletta del Papa sulle cellule staminali in realtà derivate dal tessuto adiposo ora anche qui esiste a livello mediatico come hanno insistito i miei colleghi e i relatori di questa mattina tantissime notizie tantissime notizie che tendono anche a fuorviare un po' l'attenzione e l'oggetto identificativo di questo tipo di terapia il tessuto adiposo è un tessuto molto facile da trovare da reperire come potete bene immaginare e io vi voglio un attimino raccontare la storia di come è nata la nostra esperienza la storia degli nesti di tessuto adiposo inizia nella chirurgia ricostruttiva da tantissimo tempo nel senso che essendo così facile da reperire il tessuto adiposo veniva utilizzato in tantissime occasioni per riempire banalmente dei buchi il problema qual era? il problema era che il tessuto adiposo in sé per sé è un tessuto veramente delicato da trattare quindi nel momento in cui veniva preso e trapiantato voi immaginate una pianta a cui si tagliano le radici e si mette in un altro vaso questa pianta purtroppo non attecchiva si dice quindi si trasformava andava incontro a morte si trasformava in olio e anzi causava un peggioramento della situazione che andavi a cercare di migliorare bisogna arrivare fino agli anni 80 per avere una standardizzazione di una tecnica molto semplice per riuscire a cercare di far resistere di più questo attecchimento questo trapianto di cellule e lo scopo che aveva questa prima tecnica era uno scopo squisitamente estetico il tessuto adiposo veniva prelevato trattato immediatamente poi iniettato dove serviva a scopo estetico per esempio per riempire le rughe o cose del genere del genere un'altra piccola parentesi che può servire per capire è molto difficile in chirurgia ricostruttiva ricostruire una porzione di organo di elemento anatomico piuttosto che tutto l'insieme e un esempio classico era la ricostruzione mammaria dopo quadrantectomia nei decenni passati la problematica oncologica della mammella veniva ridotta il più possibile perché si è visto che la sopravvivenza al tumore mammario non cambiava con l'aggressività del gesto chirurgico anzi lasciando piccolo l'asportazione la mortalità fondamentalmente non andava a variare per noi chirurghi plastici che venivamo chiamati in causa per riparare queste piccole quadrantectomie cioè delle piccole forzioni di mammella asportata era molto più difficile pensare a una soluzione che fosse su una piatta della bilancia equivalente cioè una piccola asportazione quindi un piccolo intervento chirurgico invece noi per ricostruire dovevamo utilizzare dei tessuti trasportati da altre zone quindi molto difficoltoso chiusa la parentesi quindi quando è nata questa tecnica di trapianto di tessuto di poso che era efficace e semplice è stata utilizzata molto spesso per queste cose qua contemporaneamente le mammelle che sono operate in questa maniera sono irradiate e hanno quindi sviluppato una reazione cutanea che si chiama radiodermite che è tremenda per i processi riparativi della pelle e chi ha utilizzato il trapianto di poso in queste mammelle vedeva invece guarire la radioterapia allora da lì è iniziato tutto un aspetto rigenerativo della tessuto di poso che si chiama lipofilling lipo struttura lo potete vedere in tantissimi nomi a livello mediatico appunto abbiamo iniziato a vedere un aspetto rigenerativo e allora quello che abbiamo fatto è stato di applicare a un modello che fosse ripetibile e allora in chirurgia il peggior nemico non è nient'altro che la cicatrice e quindi abbiamo visto la nostra esperienza nel campo delle ustioni di Niguarda eccetera abbiamo applicato all'ustione alla cicatrice dell'ustione perché è uguale per tutti la fonte di calore determina una cicatrizzazione che poi dà effetto a determinati progetti e quindi abbiamo utilizzato il tessuto di poso e abbiamo cercato di studiare gli effetti è difficile quantificare il miglioramento cutaneo perché le fotografie non sono sufficienti perché comunque ci vuole magari anche l'esame istologico e quindi il paziente ustionato era proprio il candidato ideale adesso alcuni casi vi dimostrano l'efficacia di questo trattamento il paziente a sinistra ha avuto un'ustione e poi quei trattamenti col tessuto di poso arriva a una caratteristica cutanea che ovviamente non è normale non è che si cancellino le cicatrici però è una caratteristica cutanea che permette al paziente di ridentificarsi con la propria caratteristica e questa sequenza vi fa vedere come la mimica del paziente sia migliorata altre caratteristiche sono state applicate in altre circostanze sempre dal punto di vista funzionale cioè cercare di migliorare la funzionalità delle cicatrici perché le cicatrici fanno male come sapete le cicatrici tirano impediscono l'articolarità di bocca ginocchio quindi non riesce a mangiare non riesce a muovere le braccia eccetera e vedete come si ha un ripristino delle caratteristiche cutanee quindi la cicatrice diventa di colore simile al tessuto di fianco di consistenza simile al tessuto di fianco e quindi permette delle ulteriori manovre chirurgiche per migliorarla questi sono esiti chirurgici per esempio quindi il risultato di una chirurgia che viene migliorato con un'altra tecnica chirurgica e un altro caso scusate magari per qualcuno dopo mangiato non è un granché è un ulcera determinata da un traumatismo in una ragazzina e con le normali tecniche ricostruttive non riuscivamo ad andare avanti più di questo passo cioè l'ulcera non era infetta perché i tamponi che facevamo erano assolutamente negativi le normali medicazioni avanzate noi abbiamo centro di terapia per il Wunker cioè si chiama Wunker lo studio della cura delle ulcere non andavano in porto e dopo il tessuto di poso questo è stato il risultato indipendentemente dal fatto che si sia chiusa o meno quindi siamo ben contenti però guardate che caratteristiche della pelle intorno cioè il trofismo cutaneo è proprio radicalmente cambiato e questa è una foto recente dopo il trattamento ne abbiamo fatti ulteriori ancora meglio benissimo grazie al parlare tra colleghi tra corridoi siamo riusciti a venire in contatto con la dottoressa Nicoletta del Papa e quindi siamo ci è venuto in mente di applicare questa tecnica un altro tipo di cicatrice una cicatrice che nasce dal corpo stesso che è appunto la pelle del paziente con la sclerodermia e quindi abbiamo messo in porto questo studio di cui vi voglio far vedere un pochettino le caratteristiche e i risultati quindi abbiamo trattato pazienti effetti da sclerosi sistemica a livello della regione periorare con l'innesti di tessuto adiposo ora voglio stare assolutamente a sottolineare il fatto che quello che abbiamo fatto non aveva uno scopo estetico ovvero la regione periorare come voi sapete è molto critica ma per la funzionalità soprattutto anche se contemporaneamente è una stigmatità ben precisa per un paziente sclerodermico però il nostro obiettivo quindi i risultati che vedete non vedrete mai dei canotti di risultato di labbra gonfie è un risultato studiato al fine di cercare di capire quanto fosse efficace a livello cutaneo abbiamo eseguito un'analisi fotografica dei pazienti al trattamento numero uno al trattamento numero due e poi distanza e abbiamo cercato di capire l'elasticità della cute questo è uno strumento mutuato dall'industria che va per esempio a vedere quanto dura una gomma e si chiama durometro e quindi viene applicato con delle misurazioni e va a misurare l'elasticità quello che si andava a porre come obiettivo ovviamente se più diventa morbido nel tempo è più efficace il gesto che abbiamo fatto poi ovviamente abbiamo cercato di capire se clinicamente la funzionalità della rima buccale fosse migliorata o no quindi abbiamo fatto delle misurazioni standard con la circonferenza e con l'area che veniva misurata e poi abbiamo usato questo tipo di strumento che è una specie di ecografia che va con una modalità un po' più scientifica del durometro a vedere anche questa la durezza della cute a seconda di un grafico colorato che è molto chiaro da vedere dopo vi mostrerò ancora l'esame principe che voi conoscete benissimo che è la capillaroscopia tutti i pazienti sono stati sottoposti a questo tipo di esame e infine abbiamo prelevato una porzione di tessuto a livello della rima buccale cioè da dove finisce il vermiglio che è la parte rossa e la cute in modo tale da celare completamente l'esito cicatriziale per andare a vedere se veramente succedeva qualche cosa bene questo è il tipo di terapia si va in anestesia locale con in sala operatoria sicuramente però in anestesia locale una piccola anestesia a livello addominale o a livello trocanterico cioè di fianco nei glutei si viene a prelevare un quantitativo di 6 siringhe di tessuto di poso e quello che vedete che si ottiene immediatamente dopo il prelevo quella siringa lì tutta rossastra la siringa viene immediatamente posta in una banalissima centrifuga che permette la separazione a seconda del peso delle componenti e le componenti che vengono ottenute sono queste tre due non ci interessano sono state utilizzate che sono quella sopra che è l'olio è quel famoso olio che distrugge un po' i tessuti quindi abbiamo eliminato l'olio da quello che abbiamo iniettato e la parte inferiore invece è il tessuto anestetico e cellule sanguigne che si sono rotte la parte che non interessa è quella intermedia che è la famosa frazione adipocitaria in cui abbiamo dimostrato la presenza di cellule staminali tipo mesenchimale anestesia tronculare ovvero vai come dal dentista a bloccare i nervi che vanno a innervare la zona periorale la zona periorale viene divisa in alcune aree in modo tale da quantificare precisamente il quantitativo di tessuto adiposo iniettato perché ovviamente uno gli viene voglia di calcare la mano ma in realtà per essere riproducibile lo studio è stato diviso e quantitativamente iniettato 2 ml di tessuto adiposo per area che vedete segnata lì e questi sono poi risultati ripeto non andiamo a vedere l'effetto di volume l'importante è proprio di cercare di intuire quanto si rilascino per esempio le briglie che voi parlate di rughe però in realtà sono delle briglie aderenziali al piano sottostante e come per esempio la paziente non chiude la bocca prima e dopo naturalmente invece la rima buccale è assolutamente chiusa oppure che divarica di più apre di più la bocca rispetto a prima ancora un altro caso similare con l'apertura buccale che è cambiata cioè i pazienti quando li intervisti dopo il trattamento quello che dicono è appunto che hanno più facilità ad andare dal dentista riescono a mettere in bocca un maccherone che prima non riuscivano a fare e la distensione del volto è quella che è stata destritta cioè nonostante avessimo infiltrato solo a livello della rima buccale anche a livello degli zigomi l'aspetto era migliorativo sicuramente questo qui vedete sempre altri casi in alcune posizioni dinamiche per cercare di capire questa qui è proprio la misurazione delle aperture questo è un grafico con il quale non vi voglio assolutamente tediare ma è soltanto indicativo per voi vedere l'andamento della curva cioè la la misurazione della circonferenza va a aumentare insomma e anche l'area calcolata con la regola standard dell'area del cerchio questi sono i risultati dell'elastosonografia con gli esami di cui vi parlavo prima in cui il rosso va a identificare un'area più soft più morbida e quindi dopo il trattamento l'area più morbida la capillaroscopia che fa vedere quanto sia differente il prima dal dopo dal punto di vista dei capillari ma il risultato che a noi interessa di più è questo io di osteologia ci capisco poco quindi cerco di tradurvi quello che mi hanno detto a memoria a sinistra vedete la pelle che è lo strato esterno con tutti quelli granulini violettini e vedete che ha un aspetto molto statico cioè una linea punto stop a destra dopo il trattamento nella stessa area prelevata vedete come è esatto frastagliato e queste sono le papille dermiche le papille dermiche sono quelle che vanno a riprendere la propria attività e quindi quello che ci ha veramente rincuorato del risultato è stato proprio questo riscontro perché ovviamente noi per esempio non abbiamo fatto un controllo all'interno del paziente per esempio dividendo la bocca in due e iniettando fisiologica dall'altra parte abbiamo fatto un controllo semplicemente con un aspetto di tipo istologico che è inconfutabile cioè la differenza nello stesso paziente è proprio radicale benissimo il futuro che è quasi presente direi è l'applicazione in alcune altre aree se vi ricordate quella paziente che avevo fatto vedere dell'ulcera della gamba la luce della gamba si era chiusa quindi questo ha stimolato questo tipo di nuovo studio che è stato approvato dal comitato etico dell'ospedale Gaetano Pini quindi inizierà la sperimentazione il prossimo mese sui pazienti con questo tipo di ulcerazione e non da ultimo è iniziata la collaborazione che è stata proposta all'ospedale multimedica come approvazione del comitato etico per la forma lineare quindi della morfea sempre col tessuto adiposo grazie mille lasciamo adesso la parola al dottor Rozza responsabile del progetto disabile sclerodermici presso la clinica odontoiatrica San Paolo di Milano e il suo intervento trattamento odontoiatrico nel paziente sclerodermico benissimo buon pomeriggio a tutti vi ringrazio di aver atteso finora tutte le nostre relazioni ringrazio anche il comitato organizzatore per il gentile invito e l'ospitalità che è stata fantastica mi chiamo Roberto Rozza mi occupo appunto di special care dentistry sul territorio nazionale e anche all'estero in quanto esistono diverse società di quella italiana sono il presidente che è la società italiana appunto di odontoiatria per pazienti con handicap e dell'IADH che è l'organizzazione internazionale che si occupa di queste tematiche mi fa molto piacere ricordare anche le mie colleghe la dottoressa Annalisa Benetti e la dottoressa Giovina Petrignano che si occupano di sclerodermiche anche loro da sempre ho cercato di visto che era appunto un incontro con i pazienti di essere molto pratico quindi vi farò vedere casi clinici come li trattiamo darvi alcuni suggerimenti su come l'odontoiatria può essere di aiuto ai pazienti che soffrono appunto di questa patologia vediamo innanzitutto le manifestazioni orali chi mi ha preceduto ha ricordato la microstomia come effettivamente il più grosso problema per il dentista per poter approcciare correttamente un paziente sclerodermico quindi l'accesso all'interno del cavo orale in questo senso l'associazione italiana lotta la sclerodermia sta lavorando e ha lavorato molto sulla prevenzione è estremamente importante che le associazioni facciano proprio presente a chi viene diagnosticato per la prima volta la sclerodermia che quindi è in una fase iniziale di tenere molto presente quelle che possono essere le problematiche del cavo orale questo perché purtroppo è inutile nascondersi dietro un dito nel tempo se la malattia diventa altamente ingravescente il cavo orale si chiude quindi l'accesso per poter attuare le terapie diventa sempre più difficile quindi la prevenzione ancora una volta diventa la chiave essenziale attraverso la quale diventa possibile curare e mantenere il cavo orale del paziente sclerodermico molto spesso gli psichiatri individuano una risposta psicologica a chi affronta una malattia di questo tipo o altri tipi di asibili è l'effetto alone cioè un effetto si scopre di avere un problema e ci si concentra esclusivamente sul problema principale i polmoni il cuore è vero è giusto concentrarsi sul problema principale però questa concentrazione su un'unica problematica crea proprio un alone che oscura tutto quello che sta attorno al problema principale dopo il problema principale che non passa oppure sul quale si è concentrati ma si è abbandonata altre problematiche come per esempio l'odontoiatria diventa invece un problema che aggrava una situazione già grave cioè se dopo fanno male i denti è vero che si ha il problema polmonare ma se non si riesce a curare il paziente questo diventa un grave problema soprattutto per il paziente quindi vi prego sempre lo dico sempre alle mie pazienti di dire questa cosa cioè affrontare subito il problema del cavo orale quando si affronta il problema del cavo orale all'inizio della patologia dopo si può stare bene per quanto riguarda questo aspetto sempre se invece lo si abbandona perché effettivamente si è preoccupati di altre cose ed è giusto che sia così però dopo questo diventa un problema grave che si accomuna ad altri e questo quindi non è certo favorire per i pazienti la xerostomia è un'altra delle componenti estremamente importanti da considerare nell'evoluzione del paziente sclerodermico tutti noi sappiamo che la prima digestione avviene in bocca e la saliva contiene dico cose note proteine enzimi che sono implicati nel processo digestivo e questo anche la stessa secchezza della bocca non aiuta sicuramente ma implementa quello che è il rischio di carie e di altre patologie dermatologiche del cavo orale l'ipomobilità e la fissurazione della lingua l'allargamento dello spazio parodontale lo spazio parodontale si intende il tessuto di supporto del dente la sclerodermia a dispetto comunque di una validità della stabilità dei denti le radiografie molto spesso testimoniano appunto questo allargamento probabilmente è legato appunto alla formazione poi c'è un aumento della fibrosi che mantiene i denti all'interno del cavo orale però questo è un aspetto che accompagna sempre tutti i pazienti sclerodermici le disfunzioni dell'articolazione temporomandibolare dovute ovviamente a problemi articolari che sono diffusi a tutte le articolazioni che purtroppo anche l'articolazione temporomandibolare non escevra da questo interessamento il rimodellamento dei ossei e gli spostamenti dentali queste sono grossomodo le manifestazioni è molto importante fare la diagnosi orale in modo molto scrupoloso e preciso subito all'inizio per poi partire bene quindi avere un cammino che poi nel tempo può anche cambiare nel paziente sclerodermico comunque è una linea che ci permette di seguire un percorso corretto quindi la valutazione si basa sulla presenza di lesioni cariose che sono molto spesso appunto legate alla xerostomia le parodontopatie l'esecuzione di esami radiografici e la valutazione dei profili ossei nel tempo l'interessamento articolare che di solito diventa ingravescente proporzionalmente allo stato sistemico del paziente il grado di apertura quindi noi valutiamo subito al baseline l'apertura del cavo orale e poi la valutiamo anche nel tempo prendendo i dati sono molto entusiasta ovviamente dei lavori che sono stati eseguiti dal mio collega precedentemente quindi hanno anche molta speranza di poter ancora una volta poter rientrare nel cavo orale dei miei pazienti in modo corretto senza dare fastidio senza rovinare le labbra eccetera e quindi poterli curare la xerostomia e l'iposalivazione e la capacità di svolgere le manovre orali chiaramente la compromissione delle mani diventa un problema anche per potersi lavare i denti quindi questo diventa chiaramente un circolo vizioso che porta esclusivamente a negatività quindi la difficoltà dell'accesso all'interno del cavo orale quindi di poter inserire fisicamente lo spazzolino da denti soprattutto nella profondità della bocca e proprio anche la manualità che oggi viene un pochino aiutata dagli spazzolini elettrici oppure dall'utilizzo di alcuni strumenti che sono disponibili sul mercato e che aiutano chi ha una cattiva motilità delle mani a poter comunque avere un effetto valido per quanto riguarda le metodiche di genere orale infine il trattamento con difosfonati i difosfonati che vengono utilizzati appunto per combattere principalmente sono dei chemioterapici sono stati usati sia per come antitumorali ma soprattutto il loro utilizzo la loro pericolosità nell'ambiente odontoiatrico è legata al fatto che vengono largamente utilizzati per quanto riguarda l'osteoporosi generalmente le mie pazienti sclerodermiche assumono difosfonati però se non per via sistemica e questo sicuramente riduce la pericolosità attualmente la problematica dei difosfonati in odontoiatria è legata al fatto che i difosfonati si localizzano prevalentemente nelle ossa compatte purtroppo il distretto massillo-facciale il tipo di osso presente è questo e hanno proprio questa elettiva concentrazione all'interno del distretto massillo-facciale sta di fatto comunque che è possibile trattare pazienti una volta informati correttamente che prendono difosfonati anche per fare terapie chirurgiche avanzate l'importante sembra essere anche se non abbiamo un protocollo internazionale molto al giorno d'oggi abbiamo anche nel nostro dipartimento abbiamo dei reparti che si occupano del trattamento odontoiatico dei pazienti in terapia con difosfonati utilizziamo sicuramente delle metodiche empiriche che sono basate comunque su una copertura molto seria con antibiotici prima di eseguire qualsiasi intervento e con il prolungamento rispetto ai tempi standard della terapia antibiotica stessa nel tempo proprio per evitare che possano insorgere fenomeni di osteonecrosi molti dentisti sono impauriti quando un paziente prende difosfonati e ritengono appunto di non curarli ma questo non è vero anche la stessa letteratura comunque ci sostiene su questo aspetto da diversi lavori ne ho portato uno sicuramente i pazienti con necessità speciali sono anche i pazienti che hanno maggior bisogno di di terapie odontoiatriche proprio perché nel paziente ad esempio schelodermico la riduzione della rima buccare e l'incapacità di poter attuare le terapie riduce anche le possibilità appunto di oltre che di prevenzione proprio di terapia attuata quindi portano ovviamente un decadimento del cavo orale superiore rispetto alla media della popolazione generale cosa fare per prevenire per quanto riguarda l'aspetto delle lesioni cariose sono ovviamente i controlli le sedute di genere orale professionale cioè dal dentista avevamo anche utilizzato lo zonoterapia anche se non sembra avere un grandissimo grandissime possibilità terapeutiche l'alimentazione e a volte gli sciacqui con soluzioni di bicarbonato e non l'utilizzo invece del bicarbonato sui denti perché il bicarbonato come sapete ha come dire un effetto di esatto abrasivo e quindi rovina i denti ecco attenzione ad utilizzare questi la xerostomia e l'iposalivazione sono state usate tantissime soluzioni quello che vi posso dire attualmente in base alla nostra esperienza sembra che i metodi naturali abbiano grande successo su questo aspetto noi di solito preferivamo per esempio dare dei sostituti della saliva durante il giorno con una viscosità piuttosto bassa magari di notte quando la salivazione scende naturalmente e il ph si abbassa dare dei sostituti della saliva molto più viscose in realtà nei nostri pazienti sono molto più contenti ad utilizzare dei metodi come ripeto empirici naturali che forse sono i migliori io non sono un un naturopata anzi seguo la medicina quella che ho imparato all'università però devo dire che in questo senso abbiamo ottenuto dei risultati ottimi utilizzando per esempio la soluzione fisiologica quindi sciacqui idratando tanto il paziente e poi per esempio ultimamente ho visto in letteratura lo sto facendo usare qualche paziente l'utilizzo di olio di oliva cioè quindi umettare l'interno delle guance con dell'olio d'oliva sembra essere estremamente favorevole quindi provate se volete vedere se avete sollievo in questo senso l'altra cosa è idratarsi molto e per esempio anche bere latte durante i pasti principali che aiuta il bollo alimentare sicuramente a essere un pochino più compatto e forse aiuta anche appunto l'alimentazione questo sembra essere il feedback che ci hanno dato i pazienti quindi è ancora oggetto come dire di studi le riabilitazioni protesiche nei pazienti scherodermici per quanto mi riguarda sono tendenzialmente delle riabilitazioni ipotesiche fisse le ragioni sono diverse allora le protesi mobili prima di tutto riescono a stare all'interno del cavo orale per suzione come se fossero delle ventose quindi come le ventose ci devono essere delle superfici molto larghe che negli scherodermici non ci sono e soprattutto le protesi mobili dovrebbero proprio perché funzionano come ventose dovrebbero avere dei tessuti morbidi che creino una pressione negativa che permetta appunto l'assunzione quindi di mantenere le protesi nel cavo orale negli scherodermici ovviamente il derma così duro non ci permette neanche di avere questa possibilità quindi l'orientamento è di stabilizzarle con delle risoluzioni di tipo fisso oppure delle protesi mobili però legate a degli impianti in modo tale che le stabilizzano infatti l'altro problema sulla protesi mobile è legato al fatto che quando la sclerodermia è avanzata si ha un'iposensibilità delle mucose e questo non permette ai pazienti sclerodermici quando si vengono a formare delle ulcere di percepire il dolore fino a quando l'ulcera non è già in stato avanzato poi sappiamo come abbiamo visto tutti i miei colleghi precedentemente quanto sia complicato puoi cercare di curare un ulcere quindi questo diventa ancora una volta una cosa negativa perciò il mio orientamento è sempre quello quando è possibile di cercare delle soluzioni fisse ovviamente quando è possibile poi le soluzioni mobili per esempio se sono presenti dei denti come gli scheletrati e così via aiutano lo stesso a dare dei prodotti ben tollerati funzionali e anche esteticamente utili perché è giusto che i miei signori abbiano anche un bel sorriso questo se riesco a farlo lo faccio anche volentieri il rilevamento delle impronte poi lo vedremo stiamo cercando di utilizzare delle metodiche alternative alle impronte tradizionali qualcosa si sta muovendo sul mercato abbiamo già fatto delle sperimentazioni adesso un'altra ditta finalmente verrà un giorno a San Paolo stiamo cercando delle pazienti candidate per poter come vedremo prendere le impronte attraverso delle apparecchiature elettroniche e non attraverso le impronte tradizionali perché è molto difficile prendere una paziente sclerodermica un'impronta usiamo sempre dei portaimpronte pediatrici a volte li dividiamo in due parti come vedrete abbiamo inventato anche delle protesi fatte apposta però è sempre complesso l'utilizzo di una metodica che ci permetta di evitare questo passaggio è auspicabile ed è quello a cui noi tendiamo la semplicità è la base sulla quale ho sempre cercato di trattare le mie pazienti sclerodermiche perché l'intervento deve essere il meno invasivo possibile io lavoro nell'osso poi alla fine quindi dove l'apporto di sangue quindi di tutti quegli elementi implicati nella guarigione risulta essere ridotto sia perché naturalmente ridotto ma soprattutto nel paziente sclerodermico quindi cercare di come dire aprire meno l'embi possibile cercare di essere il meno invasivo possibile chiaramente questo passaggio avviene attraverso dei rischi che personalmente mi prendo come chirurgo e anche l'utilizzo però di metodiche innovative che ci permettono di lavorare con buona sicurezza quando noi riabilitiamo i nostri pazienti l'implatologia post-estrattiva flapeless cioè senza l'utilizzo di lembi è sicuramente la metodica più valida che al giorno d'oggi questa l'avevo fatta anni fa quando l'elettronica non mi aiutava dopo vedrete che invece è possibile anche avere delle guide che vengono preparate prima a tavolino dal computer e che poi dopo vengono inserite all'interno della bocca del paziente che mi danno la direzione perfetta di dove devo e voglio andare questa è una riabilitazione è un impianto post-estrattivo senza aprire lembi ecco l'unico rischio è perforare l'osso sopra però se il chirurgo è abbastanza esperto si sente dove si sta andando e quindi ci permette di poter riabilitare innanzitutto il paziente con un provvisorio fisso dopo circa 72 ore e poi poter arrivare a un risultato estetico finale direi eccellente dopo il periodo di osteointegrazione attualmente nei pazienti sclerodermici stiamo anche utilizzando delle metodiche legate all'implantologia mini-invasiva l'impianto standard normalmente ha un diametro di 4,1 mm l'industria adesso è riuscita a proporre degli impianti in titanio di una durezza superiore rispetto a quelli standard con un diametro ridotto il vantaggio è legato al fatto che è possibile utilizzare con più sicurezza ovviamente essendo più piccolo l'impianto queste metodiche senza aprire l'embi quindi vedete il buco è più piccolo e la dimensione dell'impianto è molto più piccola ecco l'unica cosa è che le indicazioni vere e proprie per questo tipo di riabilitazione sono legate alla stabilizzazione di protesi totali quindi ritorniamo ancora una volta a quello che ho detto prima cioè se il paziente scherodermico non può portare le protesi mobili perché si ulciano eccetera noi cerchiamo una stabilizzazione però a poco osso non riesce ad aprire con questi mini impianti si riesce ad ottenere una stabilizzazione delle protesi mobili che sicuramente è superiore rispetto al fatto di tenerle così senza nessun apporto e poi anche il fatto che questo tipo di implantologia ci permette con queste metodiche mini invasive di poter avere un approccio sicuramente migliore rispetto come chirurgia e come poi guarigione rispetto alle metodiche tradizionali anche se però dobbiamo dire che se riesco a mettere un impianto standard io lo faccio sempre perché è sicuramente migliore questa è una via media però molto utile in alcuni casi rispetto alla letteratura tradizionale mentre nel macellare superiore bastano 4 impianti standard e nel macellare inferiore da 2 a più impianti è invece mandatorio nel caso di questo tipo di riabilitazione mettere almeno 6 mini impianti nel macellare superiore per supporto di una protesi e 4 nel macellare inferiore l'utilità si vede per esempio in questo studio con tridimensionale di questi mini impianti questo è un paziente per esempio trattato in terapia anticoagulante con un INR pari a 3 e avendo studiato il caso a tavolino sul computer siamo riusciti a saltare alcune strutture vascolari piuttosto importanti che in un paziente in terapia anticoagulante era meglio non toccare e tramite l'esecuzione come vedremo poi di mascherine apposite è stato possibile fare questo abbiamo inventato anche delle protesi per i pazienti schelorodermici che avevano un'apertura del cavo orale lidotta sempre supportate da impianti siamo riusciti a creare questo è un tecnico forse più interessante per un dentista però per farvi capire che siamo riusciti a creare delle porte impronte legate ai tre impianti che sono stati messi nella regione interforaminale cioè nella mandibola abbiamo preso due impronte poi il tecnico ce le ha unite abbiamo fatto una barra in oro e poi la protesi l'abbiamo divisa in due parti in modo tale che il paziente non aprendo tanto la bocca non poteva inserire l'apotesi totale ma ha inserito un pezzo per volta questi si incastravano e quindi era possibile poi lavorare in questo senso poi abbiamo fatto anche due scassi perché avendo appunto problematiche per quanto riguarda la manualità la signora poteva prendere un cucchiaino e quindi con il manico del cucchiaio poteva togliere un pezzo e poi l'altro della protesi senza cioè essendo autonoma per me è molto importante in un paziente malato l'autonomia perché non sempre puoi avere persone che ti aiutano e quindi questo permetteva alla signora anche da sola di poter lavare la sua protesi poter fare quello che doveva fare questo è l'ora scanner è quello che vi dicevo il sostituto futuro delle impronte si tratta di una parecchiatura che sostituisce l'impronta tradizionale il problema adesso è che l'industria sta lavorando per ridurre le dimensioni di questo di questa parecchiatura lo vedete nella figura 1 è ancora un po' troppo grossa per le sclerodermiche perché poi bisogna prendere cioè il computer vi dice dove dovete mettere il lettore quindi è un po' problematico ancora però stanno riducendo le dimensioni del lettore ottico praticamente il il computer legge tutta tutta l'impronta e la legge è come se fosse un file il file viene mandato poi in un laboratorio in questo caso questa parecchiatura aveva il laboratorio in Svizzera ma io per esempio anche nel mio studio al giorno d'oggi io ho il laboratorio attaccato quindi noi prendiamo l'impronta la mettiamo in un lettore va in Germania e dalla Germania ritorna con dei costi ormai normalissimi ritorna il prodotto che è una capsula che viene fatta con la metodica CAD CAM cioè l'immagine che voi vedete tridimensionale viene letta dal computer e poi esiste una stampante una stampante 3D che prende in questo caso la zirconia e la modella secondo quello che è il modello matematico e fa la capsula praticamente viene fuori direttamente la capsula che voi dopo mettete al paziente o il core della capsula che poi il tecnico riveste in porcellana e permette poi di ottenerlo questo è molto importante nei pazienti sclerodermici io sto cercando di combattere sempre per averne qualche volta la possibilità di utilizzarlo perché chi non può prendere impronte con questa metodica senza senza impazzire noi e soprattutto i nostri pazienti può avere un prodotto fantastico senza come dire avere grandi difficoltà vi faccio vedere un caso per esempio di un intarsio intarsio ecco il nero non è carie ma è la dentina sclerotica è stato pulito poi l'ora scanner l'ha visto l'ha prodotto e poi è stato scusate e poi è stato cementato quello è il prodotto finale l'ultima metodica estremamente utile per appunto la chirurgia flapless che vi avevo presentato precedentemente è legata al fatto appunto che è possibile pianificare al giorno d'oggi l'intervento al computer questo è un paziente noi possiamo avere addirittura il mascellare in mano vengono fatti prodotti vengono riprodotti in resina quelle che sono le tacca e quindi noi abbiamo proprio la mandibola del paziente in mano dove possiamo fare ricostruzioni eccetera non le facciamo negli scherodermici perché le ricostruzioni con osso sintetico io intendo i blocchi e anche quelle con osso autologo sono sempre un po' pericolose cioè bisogna per me sempre mettere sulla bilancia quello che è il vantaggio per il paziente e lo svantaggio allora se funziona uno scheletrato io faccio uno scheletrato se invece un paziente ha delle problematiche grosse pensiamo a qualcosa di più però fare i nesti di osso uno schlerodermico per mettere un dentino davanti e magari rischiare di avere osteonecrosi di creare dei problemi non si deve fare a mio avviso quindi prima bisogna rispettare quella che è la clinica e la situazione sistemica del paziente poi da quello bisogna dare il massimo compatibilmente con però la prima valutazione questo ci permette appunto di avere dei modelli poi in tridimensionali quello in basso a destra poi è il modello tradotto dal computer e riprodotto e su questo vengono fatte le mascherine chirurgiche che poi vedete in basso a destra che ci permettono poi di mettere gli impianti nella posizione con l'inclinazione che noi più desideriamo l'unico problema nelle pazienti sclerodermiche che ho visto è il fatto che queste guide voi vedete quella in basso a destra sono abbastanza grosse e poi hanno il problema che la guida chiaramente ha un tubino di metallo dove noi inseriamo la fresa che ci dà l'inclinazione giusta per mettere l'impianto però questo occupa molto spazio quindi in caso di microstomia non riusciamo proprio l'ingombro sterico della mascherina non ci permette di eseguire in modo corretto questa chirurgia perché abbiamo troppe cose in bocca e non riesco a passare però se i pazienti riescono ad aprire bene o decentemente è possibile anche realizzare questo tipo di riabilitazioni senza aprire l'embi quindi si fa solo il buchino con la fresa per l'impianto e non si hanno tagli non si ha nulla e si ha appunto un tipo di chirurgia estremamente predicibile quindi quello che è l'obiettivo della riabilitazione odontoiatrica in un paziente sclerodermico è quindi la valutazione soggettiva delle caratteristiche del paziente abbiamo visto da quello che hanno detto i miei colleghi precedentemente che esiste una soggettività altissima nel paziente sclerodermico questa valutata anche per quello che è la riabilitazione odontoiatrica il piano adeguato in relazione alle caratteristiche cliniche del paziente quindi la semplicità quindi sempre come obiettivo e la minima invasività per il risultato ovviamente migliore e l'obiettivo appunto di migliorare la qualità di vita del paziente poi come Presidente Italiano della società italiana di odontoiatria per i pazienti con necessità speciali faccio anche un po' di politica in questo senso che sicuramente l'Italia è il paese più che presenta un'odontoiatria pubblica ridotta non ci sono centri e questa è una cosa che con la mia società stiamo cercando di combattere non ci sono centri per le persone che hanno bisogno di centri specializzati perché se la modella può andare benissimo in centro noi diciamo lo studio a San Babila poi ci sono tanti che hanno lo studio a San Babila fanno porcate perché avevano i soldi per comprarsi lo studio ma questo è un altro problema il problema è che comunque l'odontoiatria italiana non è potenziata per quelle che sono le necessità dei pazienti noi abbiamo delle liste d'attesa immense perché il mio centro che ha 15 poltrone e due serie operatori alla settimana a disposizione dei pazienti che hanno bisogni speciali vivono di un medico che viene pagato poco e male e che è 15 anni che aspetta di fare un concorso e di 30 persone che vengono liberamente per libera scelta quindi dopo il paziente vede 30 camici che girano ma in realtà quello che il servizio sanitario nazionale ha portato è solo di un mezzo medico questa è una cosa che io trovo disdicevole per un paziente per un paese che dovrebbe essere avanzato questo è il mio gruppo c'è la professoressa Stromenger che è la direttrice della clinica e poi tutti i ragazzi e gli infermiere che lavorano con me vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e per l'invito poi introdurrà l'ultima parte del nostro convegno con la parola a voi allora buonasera a tutti in realtà il tempo stringe moltissimo mi hanno detto di essere molto breve quindi accorcerò tantissimo quello che devo dirvi due cose fondamentali intanto che cos'è il cancelling perché Lucilla Tanno cancellor molto spesso le persone mi guardano in Italia con uno sguardo molto interrogativo perché non sanno bene di che cosa si tratta il cancelling è un tipo di relazione d'aiuto per dirla proprio in due parole che mira non alla cura perché non c'è nulla da raddrizzare e curare ma mira al potenziamento quindi all'esaltazione delle risorse della persona quindi questo in poche parole il cancelling che cosa chi ha inventato questo tipo di relazione d'aiuto era un signore uno psicoterapeuta negli anni 50 che si chiama Carl Rogers e che era un inguaribile ottimista che credeva che le persone e questo è un po' lo spirito del cancelling messe in un clima di piena accettazione lasciate libere di esprimersi senza giudizio senza essere pilotate in qualche maniera potessero sviluppare appieno le loro potenzialità e trovare delle risposte idonee ai propri problemi quindi noi con l'AILS facciamo questi gruppi di incontro di ascolto e di accompagnamento due volte al mese qualcuno dice sono anche un po' pochi per il momento è una sperimentazione ci siamo visti solo quattro volte è difficile dire già se ci sono delle ricadute positive però vi dico la verità questo appunto sul gruppo ci tengo a dirlo in realtà a me sembra molto di più di quattro volte perché si è sviluppata una relazione molto intensa dove purtroppo il gruppo è piccolino pochi hanno aderito a quest'iniziativa e la sfruttano appieno ci siamo anche fatti una fantasia su questo forse molti pensano oddio che vado lì a angustiarmi con tutti i sclerodermici che magari si piangono addosso dove la sclerodermia è il protagonista dell'incontro beh non è così ecco ve lo posso dire non è così non è la sclerodermia ad essere il protagonista degli incontri mi sta anche stretta la definizione di gruppi di incontro di pazienti di sclerodermia siamo un gruppo di persone nella loro totalità potremo appartenere a tantissimi altri gruppi quindi potremo essere descritti in tantissimi altri modi e la malattia c'è certo è presente ma fa più da catalizzatore delle emozioni e di quello che delle problematiche vitali perché una malattia come qualunque difficoltà seria della vita rimescola un po' le carte e quindi si rivedono un po' le priorità si rileggono in chiave esistenziale diversamente tante cose ed è questo il senso non è che si è lì a parlare esclusivamente di quello si parla di tutto delle relazioni del lavoro dei bisogni dei sogni si parla talvolta anche un po' male della sanità però ecco diciamo che c'è come potete un po' immaginare però ecco c'è una partecipazione estremamente produttiva non è un malcomune mezzo gaudio come ha detto uno dei partecipanti ma è piuttosto un mettere insieme tante risorse perché appunto sono persone che si incontrano completamente diverse ognuno di loro ha un modo totalmente diverso di vivere la malattia e guardate un gruppo e questo anche più che nella seduta singola ha una sua intelligenza una sua forza ha una mente gruppale che ha una forza incredibile cioè laddove vivono visioni del mondo filosofie un po' disfunzionali le ripara trova risposte altre proprio perché c'è una pluralità di persone che cosa fa lì il counselor diciamo che il vestale la vestale di questo clima di accettazione incondizionata e di ascolto quindi se qualcun altro volesse unirsi a noi ormai è un percorso già cominciato che purtroppo si chiuderà a giugno mi auguro che ci siano invece rilanci di questa iniziativa però ecco noi per esempio ci incontriamo il 20 anzi lo ridico per chi per i partecipanti del gruppo e il 20 il sabato mattina alle 10 dura due ore e ci si incontra al policlinico dove la dottoressa Ricceri ci ha riservato molto carinamente una bellissima stanza piena di sole quando c'è il sole fuori chiaramente e quindi vi invito anche a ricongiungerci con noi per fare ultimare diciamo questo tratto di cammino che può essere un'esperienza oltremodo interessante quindi chiudo sì ecco adesso c'è la la parte è un'esperienza